Siamo con Matteo Mattioli, Alessandro Procacci della Gribertocchio Ordinuovi alla vigilia della trasferta di Capod'Orlando. Coce, che partita ci aspetta domani in terra siciliana? Domani sarà una partita impegnativa e tosta perché comunque sia la classifica di Capod'Orlando non rispecchia il valore effettivo della squadra, ci sono giocatori esperti di categorie superiori e quindi sarà molto importante il nostro approccio fin dai primi minuti della partita stare concentrati sulle cose che abbiamo preparato per 40 minuti per riuscire a portare a casa il risultato. Grazie coce. Alessandro, ci aspetta una trasferta impegnativa, tra l'altro una doppia trasferta con due partite avvicinate. Come avete preparato questo doppio impegno e come sta andando il lavoro? Per ora ci siamo concentrati su Capod'Orlando, poi lunedì penseremo a Reggio ovviamente partite fuori casa non sono mai partite facili quindi bisogna stare concentrati, bisogna stare attenti, non bisogna sottovalutare entrambe le squadre per ora pensiamo a Capod'Orlando, poi lunedì e martedì penseremo a Reggio. Grazie mille Matteo Mattioli, grazie mille Alessandro Procacci, arrivederci. Ciao.